Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento Harmonies, questo gioco della Liberlud in edizione italiana a cura di Asmod Italia che io come sempre ringrazio di cuore immensamente per la copia fornita. Si parla di un gioco molto veloce, di un gioco tutto sommato tascabile perché la scatola è piccolina quindi si porta ovunque. Si parla di un gioco anche educativo perché saremmo chiamati a creare l'habitat perfetto per i nostri animali. Quindi comunque è un gioco veloce che mischia carte e posizionamento risorse o per meglio dire cubetti come vedrete ora poi nel corso del video che sono convinto farà divertire chiunque. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Harmonies in questa edizione italiana a cura di Asmod Italia è un gioco dove voi dovrete andare a pescare da un pool comune, da una plancia comune all'inizio del turno tre terreni per ciascun turno quindi tre voi, tre il vostro avversario e quant'altro andando a girare in senso orario. Questi terreni avranno dei colori, magari la roccia, la montagna sarà grigia, magari il prato, l'erba, la prateria saranno verdi, l'acqua sarà azzurra. Quindi su prescati casualmente addendente un sacchettino e messi in questa plancia in comune ci saranno questi cubettini che vanno a identificare un territorio. Voi dovrete prendere questi cubettini e sulla vostra plancia andarli a posizionare per come ci sarà scritto sulle carte degli animali che poi a breve vedrete a schermo. Quindi voi dovrete andare semplicemente a mettere i cubetti sulla vostra plancia per come saranno appunto elencati su queste carte che andrete a prendere. Carte che si prendono anche lì da un pool in comune al centro del tavolo alla portata di tutti. Riportato sulla carta di ciascun animale c'è la sequenza per come andrà fatto il terreno. Quindi magari dice due di prateria e uno di acqua e l'animale si deve trovare sul primo della prateria. Oppure semplicemente che ci sono anche animali d'acqua e quant'altro. Oppure magari animali prettamente di montagna vi dirà di mettere, che ne so, due di roccia uno sopra l'altro perché li potete anche accavallare così che formino una montagna o una collina e uno di erba sotto. Ovviamente poi sulla vostra plancia li potete girare e indirizzare come volete però dovete tenere la forma e la figura elencata sulla carta dell'animale. Se ce la fate a farla, completarla e metterci i cubettini dell'animale quindi spostandoli dalla carta li mettete direttamente sulla vostra plancia avrete fatto l'habitat perfetto per quell'animale e quando tutti i turni di gioco saranno finiti si andrà a fare la conta. Per chi ha posizionato più animali, per chi ha fatto habitat più complessi e anche completi e soprattutto chi è riuscito a togliere tutti i cubetti degli animali dalla propria carta e posizionarli in gioco. Quindi ha creato praticamente l'ecosistema perfetto. In conclusione questo Harmonies è un gioco proprio come mi piace sempre dire ma perché è la verità assolutamente alla portata di tutti anzi qui sulla scatola viene riportata come età dai 10 anni in su che secondo me possiamo anche provare ad abbassare di un paio di anni perché è veramente facilissimo. Non ci sono cose da leggere, magari tanto testo da applicare, tante cose prendete una carta leone, prendete una carta leone e vedete come dovete mettere i cubettini terreno per fargli l'habitat finito. Quindi è veramente velocissimo come gioco, è veramente divertente è competitivo ma ha una competizione sana cioè non bisogna andare a fare sabotaggi magari in una plancia comune togliere, prendere, rubare, no semplicemente dobbiamo, sì, quando si va a prendere dalla plancia comune magari togli qualcosa che poteva servire all'altro giocatore ma non lo sai fondamentalmente quindi te prendi per quello che serve a te non per sabotare l'avversario e giochi sulla tua plancia quindi come gioco è una competizione veloce ma votata al punteggio nel senso chi fa l'habitat migliore ha vinto poi finisce lì fondamentalmente quindi è un gioco alla portata di tutti e soprattutto consigliatissimo io ringrazio Asmod Italia per la copia fornita grazie di cuore, come sempre, un piacere e un onore e se lo volete ordinare, come sempre primo link in descrizione e in sovraimpressione dalla Gioco Libreria Semola nostro negozio sponsor al miglior prezzo sul mercato se andate sul sito, digitate Harmonies ma non lo trovate oppure le copie sono finite scrivete al supporto tramite il sito della Gioco Libreria Semola e fate presente che arrivate dal mio canale dal canale di Coridan Gioco Libreria Semola si assicurerà che voi abbiate la vostra copia sia che magari è finito in magazzino oppure proprio che non c'è nel catalogo del negozio e ve lo ordinerà a parte se è reperibile e usate sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7% e per spese superiore ai 79€ corriere gratuite in 48 ore in tutta Europa quindi consegna anche fuori dall'Italia Gioco Libreria Semola è un servizio eccellente dateci un'occhiata perché è un titolo carino sicuramente è un titolo da portare a tutti i tavoli il classico gioco da tavolo si fa a serata magari con gli amici che non fanno board game portate un gioco tanto per fare qualcosa portate questo ci si diverte ciao alla prossima se questo video ti è piaciuto lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita primo link in descrizione primi link che trovate ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale facebook al canale mio di live twitch alla mia pagina instagram e alla mia pagina tiktok che sono sempre aggiornate e su twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata mi raccomando iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa anche per il canale youtube lo troverete sempre lì ciao alla prossima